Oroscopo del giorno. Giovedì, 3 agosto, 2023. Ariete. Amore. Se per le relazioni solide non ci saranno problemi, chi è in crisi con il partner potrebbe affrontare un giorno molto difficile. La storia potrebbe terminare con un punto definitivo. Lavoro. Interessante giovedì lavorativo, perché ci saranno dei cambiamenti positivi. Toro. Amore. Chi è impegnato sentimentalmente, potrebbe avere diversi problemi con il proprio partner. Attenzione a come comunicherete, con lui o con lei, meglio evitare ulteriori problemi. Anche i single potrebbero sentirsi un po' nervosi. Lavoro. L'instabilità potrebbe portarvi ad affrontare modifiche professionali, e prendere delle decisioni importanti. Gemelli. Amore. Per l'amore non sarà un giorno molto semplice. Agosto partirà davvero male per i rapporti, e anche per i sentimenti nuovi. Dovrete essere calmi e pazienti, per evitare ulteriori problemi. Lavoro. Le difficoltà non mancheranno nemmeno in ufficio, soprattutto con il capo. Voi però, saprete come uscirne al meglio. Cancro. Amore. Questo primo giovedì di agosto potrebbe rivelarsi davvero speciale, perché per le coppie sarà un bellissimo giorno. Chi è single, avrà delle nuove occasioni per fare delle conoscenze. Lavoro. La giornata sarà complicata, e voi potreste decidere di fare un passo indietro, rispetto a quello che è il vostro impiego professionale. Questo vi spingerà a cercare altro. Leone. Amore. Non aspettatevi molte sorprese oggi, a prescindere dal vostro rapporto sentimentale attuale. I più sfortunati però saranno i single, per i quali non arriveranno opportunità di conoscenze, e innamoramenti. Lavoro. Aria di cambiamento sul posto di lavoro. Il vostro ruolo professionale potrebbe mutare. Vergine. Amore. Il primo giovedì del mese potrebbe essere importante per tante coppie. Chi è davvero innamorato potrebbe decidere di sposarsi. Chi invece è già unito in matrimonio, potrebbe avere problemi con il partner, arrivando alla separazione. Lavoro. Gli impegni di lavoro sembreranno sempre più innumerevoli, ma potrebbe arrivare una significativa novità per voi. Bilancia. Amore. Disequilibrio nelle storie d'amore. Non sarà un giorno semplice, e dovrete affrontare una probabile discussione con una forte calma, nonché con il dialogo. Niente novità per chi ha ancora il cuore libero da impegni sentimentali. Lavoro. Se lavorate in un'azienda, potrebbe essere un giorno con non pochi problemi. Questo potrebbe modificare parecchio, pure il vostro umore. Scorpione. Amore. La vostra dolce metà potrebbe star attraversando un momento particolare, e questo potrebbe avere delle conseguenze nella relazione d'amore. Una situazione che vi porterà a riflettere molto, su quello che è il vostro rapporto. Lavoro. Questo giovedì lavorativo sarà tranquillo, dovrete portare avanti i soliti compiti professionali. Sagittario. Amore. Per l'amore questo sarà un giorno di routine, stabile, senza problemi, ma anche senza importanti novità sentimentali. Chi è single farà incontri nuovi, ma non porteranno verso un innamoramento. Lavoro. Ottima la situazione professionale. Le stelle saranno dalla vostra parte, e porteranno riscontri positivi non solo nei risultati, ma anche in chi vi lavora accanto. Capricorno. Amore. I single non avranno l'opportunità di dare inizio ad una nuova storia, ma non si possono escludere dei nuovi incontri. Chi è già in coppia, potrà godere di un giorno di grande romanticismo. Lavoro. Riuscirete a impegnarvi a fondo, portando ottime prestazioni con determinazione. I risultati non potranno non notarsi. Acquario. Amore. La giornata sarà tranquilla e stabile, sia per chi è in coppia, e sia per chi non ha ancora trovato la persona giusta. Lavoro. Un giovedì che potrebbe rivelarsi molto importante, perché riuscirete ad essere i veri protagonisti in ufficio. Ottime possibilità per oggi. Pesci. Amore. Amore. I risultati al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie. Grazie a tutti